Buongiorno, io sono socio da 50 anni e praticamente sono venuto a molti congressi in tutti questi anni, però questo è veramente fatto bene e quello che posso dire è che praticamente non sapevo che cosa mi sarebbe successo frequentando questo corso. Questo corso chiaramente mi ha arricchito perché non potevo sapere tutto, di tutti gli argomenti che stati trattati non potevo conoscere tutto, molti per me sono nuovi, sono argomenti anche un po' pubblicati, difficili, ma spiegati benissimo dai vari relatori. Cosa dire? C'è tante cose, ma per essere breve dico che quando uno impara delle cose nuove cambia. praticamente c'è un arricchimento e quindi è tutto a vantaggio di chi dovrà fare e seguire e essere tanto come dirigenti noi dobbiamo avere sempre queste informazioni sempre più approfondite e sempre anche più specifiche. È uno stimolo per andare avanti e fare sempre le cose belle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.